Dopo una grande battaglia per ripristinare 5 milioni di euro a favore delle famiglie per contrastare il caro Bollette abbiamo ricevuto un timido impegno della maggioranza e una maggioranza che grazie alle nostre insistenze ha presentato una norma che rinvia al futuro la copertura per trovare questi 5 milioni di euro. Noi avremmo voluto che si stanziassero oggi con copertura certa per ridare immediatamente ossigeno alle tante famiglie che stanno aspettando per poter sostenere e pagare il caro Bollette. Purtroppo ancora una volta questa maggioranza ha perso un'occasione importante, quel che dispiace di più che nel mentre non ne possono fare a meno. Hanno continuato a contribuire a finanziare a pioggia diverse associazioni e diversi enti con copertura certa non sono riusciti a trovare quella copertura certa per ridare i soldi alle famiglie che non ce la fanno a pagare il caro Bollette. Noi abbiamo voluto prendere un impegno solenne, abbiamo chiesto un impegno solenne alla maggioranza abbiamo chiesto che tra 30 giorni quei soldi devono essere restituiti alle tante famiglie abruzzesi. Vedremo, li monitoreremo, controlleremo se tra 30 giorni vi sarà davvero una copertura certa per ridare 5 milioni di euro a tante famiglie abruzzesi che non ce la fanno ad arrivare a fine mese altrimenti sarà battaglia dura senza esclusione di colpi. Comunque ancora una volta possiamo dire che il costruzionismo e la grande responsabilità del Movimento 5 Stelle cerca di costringere la maggioranza a non discostarsi troppo dei reali bisogni dei cittadini. Il nostro impegno è che vigileremo affinché quel che oggi hanno detto a parole, con intenti, con norme programmatiche diventino realtà nel più breve tempo possibile.